Sarà una finale tutta abruzzese quella che deciderà la vincitrice del Girone G di Cidilettanti. Con una sontuosa prova la dimensione solare Roseto non si fa sfuggire. L'opportunità di chiudere la serie con Termoli alla seconda partita monetizzando il blitz di gara 1. In un palamaggetti pieno d'entusiasmo, in 2500 hanno spinto Roseto alla vittoria. Una prova increscendo, quella degli squali che danno la sensazione di essere arrivati a giocare il loro miglior basket proprio nei play-off. Proprio quando conta ed il gioco si fa duro. La partita è stata di fatto tenuta in mano dall'inizio alla fine dagli Sharks che hanno imposto il loro ritmo cercando spesso i lunghi che sotto canestro hanno surclassato i pari ruolo che hanno posto resistenza con il solo Gori. In doppia cifra sono andati Fucek, 14 punti e 8 rimbalzi, Crescenzi, 10 punti e 5 rimbalzi e l'MVP Manuel Del Brocco, 22 punti, 8 rimbalzi, 2 stoppate e 10 su 16 dal campo. Il tutto in soli 24 minuti per problemi di falli, fischiati con eccessiva fiscalità dalla coppia arbitrale Sarda nel primo tempo. Benissimo anche Angelucci, ha 40 anni ma corre come un ragazzino. Dopo un primo quarto punto a punto, Roseto tenta un primo allungo nel secondo, comunque rintuzzato dalle triple di Dilembo. Nel terzo quarto i ragazzi di coach Francani, un primo di vari invece lo scavano con l'atletismo di Del Brocco e la precisione di Matteo Maggioni, 15 punti con 6 su 12 dal campo per l'ala milanese. Difesa ferrea e attacco paziente con buone spaziature, così al trentesimo Roseto è saldamente avanti 58-48. La termoli di Sandro Di Salvatore ha però quel sussulto d'orgoglio lecito da attendersi da chi la regular season l'ha vinta e nutriva ambizioni da successo finale. Così i molisani si rifanno sotto fino al meno 5, 58-53. Francani chiama timeout dopo il quale Nicola Elia si inventa la tripla che è il colpo di grazia per Termoli. Roseto arriva col vento in poppa e Del Brocco regala un paio di numeri da Highlights. Da Circoletto Rosso l'Ale Upa alzato dall'ottimo Di Sante finisce in trionfo 80-64 ed ora l'appuntamento è al Paleletra di Pescara, domenica 29 maggio, primo atto della finale tutta abruzzese. E' stato molto positivo l'afflusso di pubblico, gente che è tornata nel palazzetto, si è stato vicino. Noi abbiamo fatto il possibile per stare vicino a questi ragazzi che hanno fatto un crescendo meraviglioso. Si è creato un gruppo eccezionale e poi tecnicamente giochiamo anche meglio, molto meglio. Ragazzi sono conosciuti e meritiamo questo, lo meritiamo veramente.